Grandissima solidarietà per una vertenza giusta che noi sosteniamo sia io come sindaco metropolitano ma anche come città di Napoli, un lungo incontro, l'impegno a sostenere la loro battaglia al Mise e poi un'ulteriore sottolineatura di come a livello politico ed economico si stia mettendo in campo una strategia tesa alla deindustrializzazione dell'area urbana di Napoli. Recentemente ho ricevuto una risposta assolutamente insoddisfacente ma una delle tante risposte che arrivano dal governo su Telespazio, quindi gruppo Finmeccanica, io avevo scritto le risposte sono insoddisfacenti, sono di tipo burocratico, sono inaccettabili. Io non riesco a immaginare uno sviluppo dell'area metropolitana di Napoli, capitale del Mezzogiorno, uno dei motori economici, politici e finanziari più imponenti del nostro paese che viene ancora una volta colpita da politiche scelerate economiche e da una disattenzione ormai cronica dei governi liberisti degli ultimi quattro anni, in particolare del governo Renzi che in questo sta caratterizzandosi per punte di eccellenza nella disattenzione industriale per l'area urbana di Napoli. Potremmo fare un lungo elenco di quello che sta accadendo, quindi anche su questo ci sarà un impegno politico perché sono sovvertenze del Comune di Napoli, però sentiamo di essere vicini a queste lavoratrici e a questi lavoratori a chi lotta per il lavoro, per un lavoro dignitoso, per chi sta rischiando di perdere il lavoro a 40 anni perché l'età media di questa azienda è 40-45 anni. Sono tragedie irresponsabili e poi ogni volta sentiamo il Presidente del Consiglio che si riempie la bocca sul Jobs Act e lui sta creando lavoro, lui sta distruggendo la scuola e distruggendo i diritti dei lavoratori del nostro paese. Questa è la realtà e in più per Napoli sta massacrando da un punto di vista industriale tutta un'area urbana che una volta è stata anche il fiore all'occhiello dell'industria del nostro paese. Contrariamente alle politiche di privatizzazione a Napoli e nella città metropolitana si va in direzione opposta, quella di far funzionare al meglio i servizi pubblici, metterli in sicurezza e quindi puntare sull'industria dei servizi dell'area metropolitana di Napoli, esattamente il contrario di quello che si stava dicendo prima. Con questo accorpamento lei non teme che ci possano essere degli esuberi? No, anzi, si creano prospettive di posti di lavoro. Semmai c'è una fase ovviamente delicata che va gestita di contratti di lavoro che non sempre sono i medesimi, però lo stiamo gestendo in ANM Metro Napoli, Napoli Park, lo gestiremo nel futuro tra ANM e CTP, dove nel bilancio che andrò a provare di città metropolitana ci sarà un punto su questo, lo faremo con Asia Sapna. Siamo l'unica realtà d'Italia che punta sui servizi pubblici essenziali, mettendoli in sicurezza, facendo piani di reindustrializzazione importanti, lo stesso stiamo facendo per i servizi come Napoli Servizi e Armena nella città metropolitana, lavoro complicato con griglie normative che non aiutano, leggi del governo che non aiutano, ma noi non molliamo perché loro vogliono. Noi abbiamo la nostra piccola battaglia sull'austerità, come a Tsipras hanno cercato di soffocarlo con l'austerità, nel nostro piccolo da 4 anni stanno cercando di soffocarlo e quindi noi invece vogliamo andare nella nostra direzione convinta che i servizi essenziali debbano essere pubblici e devono essere messi in sicurezza per la garanzia di servizi sempre migliori e i diritti dei lavoratori a un lavoro dignitoso e ben retribuito.